Il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare nel 2015 importi sotto la media nazionale per i mutui immobiliari e i prestiti personali, mentre i prestiti finalizzati sono risultati lievemente al di sopra della media italiana. Il dato emerge dall'analisi svolta da CRIF Credit Solutions, resa nota oggi. L'importo medio erogato dai mutui immobiliari in Friuli Venezia Giulia si è attestato a 110.591 euro. Per i prestiti finalizzati è di 4.341 euro, mentre per i prestiti personali è di 11.618 euro. Per quanto riguarda i mutui immobiliari, le province di Udine e Pordenone, accorpate nell'analisi, si classificano al primo posto in regione e al 51esimo nazionale, con 112.897 euro, meno 9,1% rispetto al 2014. Segue Trieste con 106.105 euro, meno 1,6% rispetto al 2014, 65esima in Italia. Al terzo posto Gorizia, unica in crescita, più 4,6%, che con 104.938 euro è al sessantotesimo posto nazionale. Relativamente ai prestiti finalizzati e all'acquisto di beni e servizi, le province con l'importo medio erogato e più elevato sono ancora una volta quelle di Udine e Pordenone, 4.542 euro, più 7,3% sul 2014, poi Trieste 4.117 euro. A livello nazionale, Udine e Pordenone occupano il 46esimo posto, Trieste il 63esimo. L'importo medio più contenuto è a Gorizia, con 3.670 euro. Infine per i prestiti personali, Udine e Pordenone registrano un importo medio di 12.136 euro, più 9,3%, 65esimo posto nazionale. Trieste ha fatto registrare l'importo medio più contenuto, 10.259 euro, più 22,1%, ultima a livello nazionale, preceduta a breve distanza da Gorizia, 10.912 euro, più 16%.